ClassFlow possiede tracce insegnanti e studenti per condividere automaticamente le schede con i tuoi studenti in tempo reale. Hai mai desiderato visualizzare un'attività sulla lavagna e simultaneamente inviare un sito web ai tuoi studenti? E che ne pensi di mostrare informazioni sull'argomento che state studiando e inviare l'obiettivo di apprendimento ai tuoi studenti allo stesso tempo? Bene, ora puoi farlo! Qualunque cosa tu voglia condividere, essa apparirà sui loro tablet. Ecco come configurare questa impostazione. Inizia dal generatore lezioni, clicca su Modifica in una lezione esistente o clicca sul pulsante Crea per crearne una nuova. Vedrai che c'è un'icona nella parte inferiore che ti consente di mostrare e nascondere le schede studenti. Clicca qui per vedere le schede insegnanti e le schede studenti. Per aggiungere una scheda studente, clicca sullo spazio vicino alla tua scheda insegnante. Verrà inserita una scheda vuota alla quale potrai aggiungere elementi selezionati dal web o dalle tue risorse. Quando riproduci la tua lezione, mentre procedi tra le schede insegnanti, tutte le schede studenti relative verranno automaticamente inviate ai dispositivi dei tuoi studenti. Le schede studenti sono impostate di default su Invia automatico. Puoi verificare tale impostazione cliccando con il tasto destro sulla scheda e deselezionando o riselezionando questa opzione nel generatore lezioni. Ora possiamo riprodurre la nostra lezione. La mia prima scheda non ha nessuna scheda studente, quindi i miei studenti vedranno solo la schermata di attesa. Ora voglio mostrare le mie prime due schede insegnanti allo stesso tempo. Posso verificare qui e vedere che questa scheda insegnante ha una scheda studente. Non appena viene trascinata fuori e posizionata qui, tale scheda viene immediatamente inviata ai dispositivi dei miei studenti. Un altro uso della traccia studenti consiste nell'inviare un duplicato della scheda insegnante per focalizzare la tua classe su queste informazioni. Se i tuoi studenti vengono distratti dai propri dispositivi, non si perderanno nulla, in quanto vedranno esattamente la stessa cosa che tu stai visualizzando sulla lavagna. Per altre informazioni sulle schede studenti, visita la nostra comunità di supporto. Alla prossima e divertiti a presentare e condividere le schede con i tuoi studenti! Alla prossima e divertiti a presentare e condividere i miei studenti!